La lista delle offerte di lavoro, quella del 26 novembre di oggi, no? Ma avete sentito questo messaggio, quindi preparate qualche domanda, se avete qualche domanda da fare. Grazie a Dio le persone sono venute anche oggi per prendere la lista lavoro, ma anche per sentire il messaggio della parola di Dio. Noi preghiamo che le varie persone che sono venute a prendere la lista lavoro, non solo prenderanno la lista, ma avranno avuto anche l'opportunità in qualche maniera di ascoltare il messaggio di salvezza. Il messaggio di salvezza per grazia abbiamo letto da Romani, capitolo 4, quello che abbiamo letto anche ieri al quarto gruppo, l'ho riletto adesso, che noi siamo giustificati attraverso la fiducia nell'opera che il Signore ha fatto e che le opere che noi facciamo non hanno nessun punto per il paradiso, ma vengono fatte come debito, no? Ma come debito, come ci è scritto al versetto 4. Ringraziamo le persone che sono venute adesso, quindi vediamo se c'è qualcuno tra le persone che sono presenti che ha qualche domanda da fare. Adesso io chiederò alle persone e grazie a Dio!